Sai giù perché ti ha lasciato? Credi che quella ragazza sia la tua donna ideale ma in realtà non hai abbastanza fegato per dichiararti? Almeno per una volta con tutti gli amici vorresti risultare il figo del gruppo? Qual è il problema? Aggiorna la tua situazione sentimentale con la figa su Facebook E potrai anche tu avere l'ebbrezza di umbriatore che abbraccia abbrattente qualcuno che magari prepotente si offende Esattamente Aggiorna la tua situazione sentimentale con la figa su Facebook Se lui è riuscito con quella grandissima gnocca evidentemente avrà dei particolari molto scottanti Aggiorna la tua situazione sentimentale con la figa su Facebook E per te il San Valentino non sarà più un semplice giorno per lanciare di fulmini ai tuoi maledettissimi amici Aggiorna la tua situazione sentimentale con la figa su Facebook Se non sai da un film a colori portar via le frasi agli attori Non comprare una battona Ma aggiorna la tua situazione sentimentale con la figa su Facebook E vedrai che i tuoi amici ti daranno un'attenzione che con lotta ed educazione fisica ti sognavi soltanto Io ho un grandissimo problema Non ho mai avuto una ragazza Ogni volta che vado a dormire mi masturbo con il neutro Robert Ma vediamo come funziona Dirigiti sulla tua bacheca Clicca su avvenimento importante Successivamente su famiglie e relazioni E infine non ti resta che decidere la tua nuova partner con tanto di commento facoltativo Ora invece da quando aggiorno la mia situazione sentimentale con la figa su Facebook Non ho più questo dannato problema Anche perché posso avere tutte le donne che voglio in qualunque momento Aspetta un attimo ti masturbavi con il neutro Robert Oipò Aggiorna la tua situazione sentimentale con la figa su Facebook La donna a portata di un click La donna a portata di un click